Un cantiere come non lo si era mai visto, tutto grazie a una diversa prospettiva. Stiamo parlando dei lavori in corso sulla strada statale 640 a Grigento-Caltanissetta, conosciuta anche come la strada degli scrittori, ripresi tramite l'utilizzo di un drone, il cui video, che è stato pubblicato nei mesi scorsi sul canale YouTube dell'ANAS, sta riscuotendo nelle ultime ore un grande successo. Il video offre una panoramica dei cantieri aperti lungo l'itinerario, a pochi metri di distanza dalla rete stradale attualmente in uso dagli automobilisti. Un panorama suggestivo tra il verde degli alberi o dei campi coltivati e il grigio cemento dei piloni, giaretti, pronti per sostenere ponti e viadotti. Dall'ampio raggio sulla veduta dall'alto offerta dal drone, la scena si sposta occasionalmente molto più in basso, magari per riprendere un braccio meccanico in azione o addirittura all'interno di gallerie in corso di realizzazione. Insomma, un video realizzato in maniera originale che mostra ciò che è già stato fatto e ciò su cui si sta lavorando, il tutto immerso nell'attività degli automobilisti in viaggio e nel panorama tipico della macchia mediterranea della nostra Sicilia. Andando oltre la suggestività delle riprese, i lavori di raddoppio lungo l'agrigento Caltanissetta hanno anche evitato che su questo tratto stradale si registrasse nell'anno 2016 alcuna contravvenzione per eccesso di velocità, proprio in virtù dei limiti di velocità bassi imposti a causa dei cantieri, cosa che invece si è registrata in altre strade statali.